Se sei troppo sensibile al dolore e non hai mai fatto cerette in vita tua, Epilcera è proprio il trattamento, il rituale che fa per te. Perché noi andiamo a preparare prima la pelle, perché se arrivi con una pelle disidratata, con una pelle di cartone molto secca, è normale che tu sentirai più dolore. È appunto per questo che noi ci differenziamo, perché andiamo a massaggiarti con oli caldi, prodotti lenitivi, panni profumati, ti accoglieremo in una cabina a benessere, dove comunque inizierai già a rilassarti prima del rituale. In più, quello che fa la differenza a non sentire il dolore, sono le nostre meravigliose resine che fanno appunto la differenza. In più ci avvaliamo di una striscia in mussola di lino e cotone, e non è la classica striscia di TNT, dove sentirai il 70% del dolore in meno rispetto alle cere tradizionali.